Roma Mi chiamo Riccardo, ho 25 anni e sono da poco entrato nel club dei cuori spezzati. Non mi chiedete di raccontarvi tutta la storia, vi basti sapere che ho incontrato il grande amore e che mi è scivolato via come sabbia dalle mani dopo i due anni più belli della mia vita. Da quando sono rimasto solo, Roma è diventata stretta. I luoghi mi rinfacciano impietosi ricordi, che per quanto belli risultano ancora troppo dolorosi. Ho deciso quindi di fare le valigie e partire per Lione. Lì, proverò a raccontare cos'è l'amore. Pronti a partire con me? Pronti a partire con me?